ciao alex sonofri in questo video parleremo di un paio di moduli di quello che potremmo chiamare umorismo cazzuto che servono per praticamente intrigare maggiormente innalzare il proprio livello di carisma di intraprendenza anche di fascino e questo naturalmente è utile non soltanto nella seduzione ma anche nella vendita nelle relazioni nelle amicizie insomma vi rende più intriganti più affascinanti più carismatici di fronte a chiunque allora questa è una tecnica abbastanza intermedia perché prevede un buon livello di intelligenza sociale quindi di calibrazione di comprensione di come comunicate di come questo viene recepito perché altrimenti va finire che con questo umorismo cazzuto fate l'opposto andate magari se sbagliate ad offendere la persona o a non far capire bene come state interagendo io consiglio sempre ma per tutti i miei video soprattutto questi un pochino più diciamo da prendere un attimo con calibrazione io consiglio sempre di avere delle persone con cui esercitare questi video magari altri appassionati di comunicazione seduzione vendita comunicazione strong magari altri che seguono il mio canale eccetera e fare esercizi giocare fare non so dici dai facciamo un esercizio proviamo questa cosa tra noi in modo da essere cioè da padroneggiare questa roba prima di andarla ad utilizzare con qualcuno che vi interessa in qualsiasi ambito e magari sbagliare quindi ora vedremo due moduli di umorismo cazzuto che sono praticamente definibili gli do dei nomi per definire il modulo della tecnica preciso la sottovalutazione umoristica e poi praticamente un'altra che vedremo tra un attimo allora la sottovalutazione umoristica tu devi simulare che stai sottovalutando la persona volontariamente però facendo capire che stai scherzando quindi esempi classici sono questi qua allora i due filoni di questo modulo sono sottovalutare le potenzialità della persona come dire non so se ci riesci e seconda cosa stupirsi del fatto che sia riuscita questa persona a fare questo qualcosa sempre in modo umoristico e ora ti faccio delle frasi e degli esempi alla mettiamo che la persona dica tra qualche giorno un esame difficile adesso vediamo come va tu potresti dire a un esame difficile ma sai cosa credo che questo tipo di esami fondamentalmente anche una persona come te potrebbe superarli ecco vedi è come a dire penso che magari impegnandosi molto anche una persona come te potrebbe superarli come a dire non so se ce la fai però devi farlo in modo umoristico oppure la persona dice è un colloquio di lavoro importante e tu dici caspita un colloquio di lavoro boh non so magari anche nelle tue condizioni potresti riuscire a superarlo cioè vedi che devi fare una faccia cioè quello che dice un po cazzuto però con la faccia si capisce che stai facendo umorismo la persona dovrebbe dirti oh ma come uno come mary dovrebbe riuscire a superarlo ma che ti credi ma guarda io sono bravo capito insomma oppure ti dice ma che stronzo ecco se ha una reazione del genere però divertita allora hai colpito nel segno di questa tecnica e poi dice dai scherzo lo so che che ce la fai sicuramente ce la fai perché se vuoi puoi ok cioè la enfatizzi alla fine estremizzazione enfatizzazione anche queste qua sono tecniche di questo tipo di humor un po cazzuto eccetera la seconda la seconda diciamo tipologia di frase che potresti dire in questa questa diciamo così abbassamento di valore umoristico che io chiamato sottovalutazione umoristica potrebbe essere questo il post evento che quindi la persona dice sai ho preso un buon voto a quell'esame e tu un buon voto a quell'esame caspita o ma è stupito non me l'aspettavo da te caspita un buon voto all'esame e vedi tu questo capito ecco anche qui la persona dovrebbe dirti se tu hai fatto bene ma come ma guarda che io ho studiato c'è capito una roba simile cioè sempre in modo umoristico dovrebbe risponderti altrimenti stai offendendo e hai fatto una cattiva calibrazione oppure dovrebbe darti una bottina come per dirti o stronzo ma guarda tu questo c'è capito sempre con il viso sorridente altrimenti hai offeso e non hai comunicato la parte umoristica prima di darti il secondo filone diciamo così di frasi ti dico che perché si utilizza l'umorismo cazzuto allora la cazzutaggine fa vedere che tu sei no intraprendente che sei forte strong eccetera però che non sei arrogante cioè quello che dici il realtà se tu lo estrapoli dal contesto è arrogante però deve essere umoristico e per questo è divertente piacevole giocoso mostra che tu ci sai fare insomma che sei una persona carismatica quindi la seconda diciamo così il secondo modulo di questa tipologia di umorismo cazzuto è la critica ammessa non fatta è difficile dare dei nomi perché comunque sono tecniche molto dettagliate quindi cos'è la critica ammessa non fatta allora la critica ammessa è una critica che tu ammetti che avresti voluto fare però non hai fatto quindi è comunque una critica però che non volevi fare e non hai fatto anche se ce l'avevi in mente e quindi quando è che fai questa critica ammessa non fatta quando la persona critica se stessa critica sempre tra virgolette ma andiamo subito a degli esempi perché facciamo un pochino prima allora sono due tipi di frasi fondamentalmente la prima è beh non te lo volevo dire e la seconda è ma per fortuna che l'hai detto tu oppure per fortuna che te l'hai detto da sola ora solo insomma adesso in base alla persona e come si applicano sono un pochino quel tipo di umorismo un po alla film americano no ecco quindi mettiamo che una persona facciamo una ragazza per dire ma vale per chiunque ovviamente arriva e dice la caspita presso questa giacca che mi sta un pochino larga e tu fai beh non te lo volevo dirle ma insomma c'è vedi sempre con un viso un po umoristico sorridente ecco la persona potrebbe reagire con c'è con il strozo ma guarda tu ma perché brutta la mia giacca c'è no visto dice così c'è entri dice insomma non è bellissima però va bene non te lo volevo dirne anche questo e poi fai capire che sta scherzando dici no scherzo comunque diciamo che ha dei begli occhi no e continui sempre in questo tipo di umorismo e poi alla fine devi dire no vabbè guarda mi piace poi può capitare che un pochino più larga un po più stretta però insomma stai guardare il centimetro non è che vai dal sarto per ogni tipo di calzino che compri insomma ecco no sempre umorismo cazzuto poi c'è devi far capire che stai scherzando e quindi è una critica ammessa cioè ammetti che quella critica l'avresti voluta fare cioè già la giacca insomma quello che ti stava larga però non è non fatta c'è critica ammessa non fatta e tu l'ammetti questa critica che non hai fatto perché la persona la fa su di sé ovviamente è finto non è che stai a dire ammazza che giacchetto grosso poi se lo dice tu dicessi in effetti no oppure la persona ti dice ah caspita oggi ho un po di occhiaie e tu dici beh non te lo volevo dire insomma ecco e quindi dovresti far scatorire la stessa reazione scherzare giocare insomma questo innalza il livello emotivo empatico e simpatico della dell'interazione tra voi il secondo tipo di frase di questo secondo modulo della critica ammessa non fatta è praticamente simile alla frase che ti ho detto ora è a fortuna che te lo sei detto tu oppure fortuna che te lo dici da sola no ad esempio la persona potrebbe cioè mettiamo un maschio dice a volte sono un po burbero e tu potresti dire a fortuna che te lo dici da solo no è anche sempre in modo però simpatico è importante la mimica non dovresti dire cioè non devi dire altrimenti sbagli beh fortuna che te lo dici da solo ecco no perché la persona poi si offende entrata in dibattito insomma un po scontrosa come roba a meno che devi riprendere correggere però quello è un altro paio di maniche la persona potrebbe dire ah eh ho perso un po di massa magra oppure mi sono un po ingrassato e tu ah fortuna che te lo dici da solo caspita no vedi sempre cioè un po no con questa mimica un po mannaggia oh te lo sei detto te lo volevo dire io ma non te l'ho detto fortuna che lo dici da solo però sempre con sorriso si vede la mimica che sta giocando che sta scherzando oppure una ragazza dice ah questo trucco mi invecchia la pelle e tu eh caspita fortuna che te lo sei detta da sola oppure ah non te lo volevo dire insomma ecco capito sempre umoristico ecco provate a fare questa cosa qua vedrete che si instaurerà un clima più giocoso e giocare è sempre seduttivo perché soprattutto se lo fate da un punto di vista un po cazzuto con queste battute non che dovete raccontare la barzelletta c'è l'italiano l'inglese il francese che vanno sulla insomma eccetera capito quindi umorismo cazzuto intriga seduce conquista mostra una vostra personalità carismatica intrigante intraprendente e fa divertire fa star bene intrattiene fa vivere quel piacere di relazione ed è gratis ok quindi farete anche la differenza con questo tipo di humor poi trovate altri video sull'umorismo cazzuto cercate alex sonofri umorismo cazzuto o come fare umorismo insomma in youtube e troverete gli altri miei video e video successivi che per vedere dovrete iscrivervi al canale cliccare la campanella e selezionare tutte le notifiche così vi arriva la comunicazione dei nuovi video e mica vorrete perdervi insomma poi vabbè non mi aspetto che voi riuscirete a fare riuscirete a fare questa cosa però se vi impegnate magari anche st'iscrizione a sto cavolo dei canali con sta campanella e ste tutte notifiche magari ci riuscite che poi a volte mi incontro mi dite ah mi sono iscritto al tuo canale perché ho riconosciuto il valore dei contenuti e io vi dico caspita ha riconosciuto il valore dei contenuti vedi da te non me ne aspettavo mai stupito porca miseria addirittura il valore dei contenuti insomma tutte queste cose qua il valore dei contenuti verranno Grazie per la visione!